Riccardo, mi verrebbe da dire finalmente, oggi ti sei sbloccato e hai iniziato a dimostrare quanto vale e perché Andrea Nicolai e la Fiorentina Basket hanno creduto in te e ti hanno voluto la scorsa estate? Sì, oggi è stata una partita che mi ha aiutato a sbloccarmi, a entrare un po' in quello che era questa squadra ma quello che mi interessava oggi era la vittoria di squadra che è stata molto importante, molto difficile è una squadra molto intensa, molto tosta come loro che nasconde molte insidie e soprattutto arrivando da mercoledì, da una grande vittoria contro una grande squadra oggi era veramente importante impattare la partita nel modo giusto secondo me siamo stati molto bravi da questo punto di vista, concentrati, intensi nei primi tre quarti dopo c'è stato appunto l'unica pecca di questa partita che l'ultimo quarto abbiamo mollato un po' soprattutto secondo me di testa e mollando di testa dopo la partita di mercoledì è tutto anche fisicamente molli e infatti abbiamo perso poi 12 punti l'ultimo quarto ci prendiamo la vittoria che è stata molto importante e siamo già mentalizzati alle prossime due trasferte che saranno molto importanti per consolidare queste due vittorie in casa grazie